Stiamo deturpando uno dei viali più belli della città, un'affermazione espressa da un residente di Corso Dante che trova con corde molte altre persone. L'abbattimento degli alberi, i tagli decisi dal Comune in accordo con i tecnici del Servizio Verde Pubblico della città, continua a non andare giù a molti residenti della zona che temono altri provvedimenti nei confronti dei 186 esemplari di Olmo presenti in Corso Dante. Ufficialmente l'operazione è partita perché gli alberi sono considerati alla fine del loro ciclo di vita e poiché 66 anni fa furono piantati tutti insieme si temono ulteriori abbattimenti. Il Comune si giustifica con l'impossibilità di altre scelte. In caso di forti eventi meteo le piante con cavità interne deboli e a forte rischio di schianto come quelle di Corso Dante possono causare notevoli danni a persone e cose. Ma questo non basta indorare la pillola per coloro che hanno visto nell'abbattimento degli Olmi una strage che lede l'immagine della zona. I residenti di Corso Dante hanno dunque pensato per continuare a sottolineare il loro dissenso per le operazioni del Comune di posizionare dei lumini su tutti gli alberi tagliati nel Corso.